Io mi chiamo Danilo Casagrande, sono un ingegnere e lavoro per l'Enea. Un attimo. Il comune di Montecallo è un comune adiacente con il comune di Arquata del Tronto, è un comune piccolissimo ma si trova molto vicino alla faglia che attraversa il Montevettore. Noi siamo i dirimpettai di Castelluccio di Norcia, cioè andando al di là del Redentore e del Montevettore troviamo il comune di Montecallo. Come vedete uno di quei 56 comuni ha il di sotto dei mille abitanti con estensione territoriale abbastanza importante e che presenta un livello di danneggiamento piuttosto diffuso ed importante, localizzato soprattutto nelle frazioni che sono proprio al di sotto del Montevettore mentre quelle più lontane se la sono cavata un po' meglio. Negli interventi di oggi ho sentito tante persone parlare di territori abbastanza disabitati, con tante seconde case, usufruiti da persone, diciamo il turismo quello non dico mordi e fuggi ma gente che ritorna nel fine settimana piuttosto che ad agosto per stare in questi posti per brevi periodi e prendere da questi posti ciò che c'è di bello ma ritornare nella città a prendere tutto il resto, quindi cercare di mettere sulla bilancia dei valori tutto quello che è importante nella vita quindi un po' di relax in un posto incontaminato ma prendere dalla città tutto ciò che c'è di importante questo è stato il motivo per cui questi posti si sono spopolati dal novecento in poi Montecarlo contava più di duemila abitanti, era più o meno la metà di Arquata, un comune grosso come quello di Accumoli e contava più di duemila abitanti dalla prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale siamo arrivati a questi numeri e costantemente c'è un decremento costante della popolazione, d'inverno arriviamo a cifre abbastanza esigue 150-200 persone che resistono a metri di neve in realtà questo territorio, ho messo una foto, una slide dopo il 24 agosto per far capire come è messo il comune come è dislocata la faglia che ha segnalato l'epicentro nel comune di Accumoli del sisma del 24 ma quella più in generale è la porzione di faglia che si è mossa quindi come potete vedere noi siamo molto vicini alla faglia però siamo uno di quei comuni un po' dimenticati io non sono venuto oggi qui per reclamare l'importanza di Montecallo ma per reclamare l'importanza di un tessuto che è quello delle piccole frazioni che hanno fatto, costruito e sono parte integrante dell'Italia, hanno fatto gli italiani prima del Novecento, subito dopo il Novecento tanta gente, tanti italiani da questi posti sono migrati e sono venuti a fare le città quelle che noi oggi vediamo, grandissima parte della popolazione di Roma viene dall'Abruzzo, dalle Marche, dall'Umbria, dai territori del centro Italia oggi questi territori vengono messi in secondo piano quando si parla di ricostruzione si parla di una ricostruzione dove era, come era, rifacciamo il costruito secondo me il punto centrale della questione è perché la gente è andata via perché un cittadino di Gorizia, un cittadino di Palermo dovrebbe spendere i propri soldi, i soldi delle tasse che versa allo Stato oltretutto in deficit, per ricostruire delle case che magari tra dieci anni verranno usate una volta alla settimana, chissà quanto c'è un'etica dietro i soldi che vengono spesi dietro una catastrofe del genere e quest'etica implica una riflessione più ampia cioè in questi territori noi dovremmo tornarci ad abitare io sono una di quelle persone che è inquadrata dai locali diciamo, come il ritornante le persone che fanno avanti e indietro il sabato e la domenica nonostante una vita sociale normale però a me piace passare le mie giornate in un luogo essere il montanaro, cioè la persona che sta lì in solitudine e tantissime persone vanno lì a prendere questo però che manca a queste persone per tornare definitivamente in questi posti io chiesi a mia nonna perché andò via da Montecallo mia nonna mi rispose che lei 60 anni fa portava i panni a lavare al fiume con una cesta sopra la testa quando venne a Roma aveva la corrente elettrica aveva la luce in casa e lei per nulla al mondo avrebbe rinunciato alle comodità di Roma per tornare a Montecallo nel 2012 mancò la corrente nella mia frazione io ho una casa a 1050 metri per 40 giorni mancò la corrente tutti gli anni c'è un distacco di corrente almeno di una settimana, 10 giorni, qualche giorno i problemi sono cronici per non parlare delle linee telefoniche internet totalmente assente quando ero studente io che magari la rete non era usata come in questi momenti io andavo a studiare su scienza delle costruzioni lo preparai totalmente a Montecallo oggi uno studente non potrebbe mai pensare di passare la giornata dal quadra del tronto una settimana, due settimane per studiare perché non ha la rete internet sono cose banali però ci portano a capire perché queste persone se ne sono andate quando noi oggi Montecallo è un territorio chiuso hanno buttato via le chiavi ci sono circa 30 persone che per varie ragioni stanno sul territorio ma fanno avanti e indietro perché ancora non sono realizzate le soluzioni abitative d'emergenza sono stati demoliti due edifici e portati via le macerie di soli due edifici a fronte di circa 100.000 metri cubi di macerie da portare via a tutt'oggi nessuno mette in campo le risposte per far tornare le persone in questi luoghi si è deciso di ricostruire tutte le scuole che erano presenti sul territorio del cratere a che cosa serve ricostruire la scuola nel territorio di Montecallo dove questo anno una sola bambina sarebbe andata a fare le elementari lo scorso anno ce ne sarebbero stati sei di bambini con una classe unica capite bene che un genitore che decide di affrontare una vita in un territorio come questo decide anche di lasciare un gap in eredità ai propri figli perché i figli non cresceranno come dei figli che sono stati cresciuti ed educati in un asilo nido o in una scuola elementare che sta a Roma i figli cresceranno per forza un po' costretti mentalmente perché non avranno gli stessi scambi che hanno i bambini che sono in altri posti e la decisione del governo invece è andata verso la ricostruzione di tutte le scuole in tutti i comuni quando non ce n'è bisogno invece di cercare di ricostruire un tessuto economico che è la base per poter far ritornare le persone vi cito alcuni dei dati Castelluccio di Norcia fa circa tra le 35.000 e le 40.000 presenze nei giorni festivi nel periodo della fioritura gran parte di queste persone passano per Montecallo per andare a Castelluccio perché ci sono due strade di accesso la Val Fluvione da Castelluccio da Visso da Castel Sant'Angelo sul Nero oppure da Norcia però diciamo c'è il versante Umbro e il versante Marchigiano devono passare da noi Montecallo la settimana di agosto fa circa 8.000 abitanti non si riesce a catturare piccole frazioni di queste persone che potrebbero tornare a vivere in questi posti in modo stabile perché non c'è una politica di programmazione non c'è una visione a lungo termine di quello che è le problematiche che hanno portato all'allontanamento delle persone questa è una foto scattata il 30 ottobre la mattina appena subito dopo la scossa diciamo qualche minuto dopo ancora ci sono le nuvole di fumo questa sta a 1200 metri che si alzano dalle frazioni circostanti il mio comitato prende il nome dalla chiesa che è rimasta distrutta dopo gli eventi sismici dopo i tre eventi sismici perché nessuno in questo periodo di tempo ha pensato di puntellare la chiesa la chiesa aveva è la più importante chiesa della tutta la provincia d'ascoli perché è la più vecchia del nono secolo dopo Cristo dopo il 24 questa è prima del 24 agosto dopo il 24 agosto dopo il 26 ottobre dopo il 30 ottobre in due mesi di tempo nessuno ha pensato a puntellare la chiesa e questo è lo stato in cui versa tutto il comune la mia non è una critica volta alle istituzioni io ogni volta che faccio un intervento cerco di parlare cerco solamente di far buttare gettare il cuore oltre l'ostacolo e di far capire che o affrontiamo il problema in un altro modo oppure non ci sarà modo di risolverlo perché il terremoto da noi era in atto da tantissimo tempo era il terremoto più brutto che era quello che portava via le persone ad abbandonare un territorio la mia famiglia ha 450 anni io ho i passaporti dello stato della chiesa dei fogli delle pergamene e così dei miei avi che permettevano il passaggio dallo stato della chiesa nei vari periodi insomma in cui cambiavano i confini e la mia famiglia ha abbandonato questi luoghi ma per evidenti esigenze e tutti quanti chi prima chi dopo stanno lasciando questi posti se prima la battaglia era persa perché è chiaro che era un processo irreversibile dove nessuno poteva porre un poteva invertire la rotta adesso c'è la possibilità di invertire la rotta perché questi posti hanno la ricchezza nei posti stessi non è non è finito niente di quello che è la bellezza del posto di quello che attrae le persone sta tutto ancora lì per cui la spinta che vorrei dare a voi come comitato tecnico scientifico mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato qualche rappresentante delle istituzioni è quello di guardare il problema in un modo un po' più ampio investire i comuni di responsabilità così grandi noi abbiamo un sindaco eletto con 273 voti se non ricordo male io nel mio comitato ho circa 400 iscritti proprietari di case nell'altro l'abbiamo diviso nella vallata e nella parte alta nell'altro comitato ci sono circa 300 iscritti andiamo d'accordissimo insieme facciamo 700 potenziali elettori siamo più rappresentativi noi piuttosto che il sindaco ma non è un problema di cariche di chi decide cosa è un problema di competenze se il sindaco è stato eletto per una situazione che riguardava l'ordinario la gestione di un territorio che era abbastanza semplice come si può investire di responsabilità così ampie un sindaco che non ha la forza la possibilità benché ce la possa mettere tutta di arrivare a coprire tutte quelle che sono le responsabilità che la legge e il legislatore diciamo mette sul suo capo anche se l'ufficio speciale per la ricostruzione svolge un compito molto importante perché posso testimoniare che è abbastanza presente sul territorio posso anche testimoniare che la scelta che fu fatta dal gruppo tecnico dal GTS il gruppo tecnico di supporto per la mia frazione ma ha riguardato dieci frazioni e la mia frazione è la più disastrata di tutto il comune è stata questa la mattina del 10 luglio ultimo giorno disponibile per fare le relazioni finali del GTS sono venuti in un quarto d'ora in un quarto d'ora un componente dei vigili del fuoco uno della sovraintendenza uno della regione Marche uno dell'ufficio della ricostruzione hanno deciso che cosa si farà di le frazioni dieci frazioni sono state valutate la mattina del 10 luglio tutte 10 con la fretta di sbrigarsi per andare a mangiare casa mia che ha in L4 quindi è una casa che certamente verrà abbattuta è stata valutata dalla sovraintendenza come importante a livello storico e lui ha deciso di conservarla quindi verrà fatto un intervento di recupero su una casa che ha perso le due pareti più lunghe più un angolo e diciamo a dire che è tutta spaccata è poco sta in piedi perché abbiamo lasciato è stata ristrutturata nel 2009 e ci abbiamo speso tutti i risparmi abbiamo lasciato un muro di porto centrale con le fondazioni fatto per bene e sta tenendo in piedi i solai e il tetto ma la casa è tutta crollata perché intorno era tutta muratura hanno deciso di tenere in piedi non so cosa verrà in questo momento quando si parlava di sovrapposizione di decisioni di persone che decidono del destino e poi dopo queste decisioni vengono ribaltate completamente queste persone hanno deciso per adesso di conservare la mia casa che adesso sarà oggetto di un intervento di messa in sicurezza dopodiché verrà battuta quando interverrà il progetto privato le perimetrazioni altro capitolo c'è stato detto verrete perimetrati la frazione chiaramente 100% di inagibilità 46% di crolli gravi danneggiamenti eccetera verrete perimetrati nessuno ha perimetrato niente parlai con Errani nell'incontro di Norcia Errani testualmente mi disse io non voglio vedere perimetrazioni al di fuori di accumuli e da matrice qualcosa d'arquata non mi interessa che cosa riporta la legge non ci saranno perimetrazioni negli altri territori di fatto sta avvenendo quello che disse Errani io non so da cittadini capite bene che noi non siamo per il noi vorremmo una ricostruzione nei luoghi che hanno visto crescere le nostre famiglie ma una ricostruzione diversa da quella che è stata perché se il territorio ha fallito cioè se il territorio era per i carretti per diciamo l'agricoltura la zootecnia ed ora c'è altro noi vorremmo che ci fosse un'apertura verso l'altro vorremmo che un bambino che decidesse di crescere ad Arquata piuttosto che a Montecallo abbia una scuola dove possa crescere esattamente come a Roma condizioni pari non vorremmo che il nostro bambino crescesse a Montecallo ma crescesse in un comune che raccoglie diversi comuni limitrofi e crescesse socializzando perché stiamo crescendo una generazione di bambini esattamente uguali ai padri che non vogliono proprio montanari di quelli che non vogliono sentir parlare di nulla non vogliono nessuna interferenza sul territorio non vogliamo stravolgere quello che è il territorio uno sviluppo naturale e culturale piuttosto che una vocazione naturale però se ha fallito perché ha fallito ed è accertato che ha fallito un territorio intero che riguarda il centro Italia e l'Appennino in generale forse sarebbe bene conservare ciò che c'è di bello e dirigersi verso una ricostruzione che sia più utile a far tornare le persone in questi posti capiamo bene che non è facile ma vorremmo anche che si facesse un salto mentale verso questo questa una foto emblematica vabbè io sono molto affezionato a questi posti dove passo le giornate e voglio raccontare solo un aneddoto non c'era il terremoto eravamo in un periodo di pace su questo prato che si trova sopra quella chiesa che avete visto prima qui siamo quasi a 1300 metri in un giorno d'agosto era il 17 agosto sono salito con la bicicletta verso le tre e mezza del pomeriggio c'erano un mare di persone che passeggiavano in questo posto a fare trekking mi sono buttato a capofitto verso il capoluogo del paese e c'erano cinque o sei persone che stavano al bar c'era più gente a 1300 metri che nella frazione dove ci sono i bar il centro urbano e lo sviluppo della vita diciamo questo per dirvi che la ricchezza è intrinseca in questi luoghi basta veramente apportare piccoli correttivi per poter far rivivere questi posti mi permetto di portare una proposta di legge che abbiamo messo a punto insieme al club alpino italiano che è il promotore della proposta e che è stata accolta anche dal parco nazionale di Monti Sibillini e dal parco nazionale dei Monti della Laga qui l'ho riportata brevemente facciamo un caso ipotetico di un signor Rossi che ha un edificio di 300 metri quadri a Monte Gallo stabilendo un costo parimetrico per la ricostruzione di questo immobile di 1000 euro possono essere 2000 insomma un costo parimetrico che è 1000 lo stato su questo edificio impegnerà 300.000 euro se questo signor Rossi ha dei figli uno in Venezuela uno in Belgio piuttosto che a Roma ai quali non interessa assolutamente ritornare in questo posto consci del fatto che ci ritorneranno magari tra 10 anni e non ci sono mai andati neanche prima vi assicuro che ci sono tantissimi casi come questo lo stato mette lì una proposta e dice caro signor Rossi se lei vuole può aderire a questa proposta noi diciamo rileviamo parte della sua cubatura due terzi della cubatura alla metà del valore stabilito dei 1000 euro le diamo 500 euro a metro quadro quindi io le ricostruisco 100 metri a 1000 euro e spendo 100.000 euro i 200 metri che rilevo gliele indennizzo con 100.000 euro quindi il signor Rossi si ritrova con una casa di 100 metri più facile da riscaldare più vivibile magari perché sono rimasti lui e la moglie e in tasca 100.000 euro con i 200 metri quadri di cubatura che lo stato acquisito che fa il comune decide di destinarlo a spazi urbani piazzette aumento delle distanze tra le case diminuzione delle altezze vie di fuga qualunque cosa sia utile e necessaria alla frazione o al borgo in questione e in più ricostruisce allo stesso costo una piccola porzione di casa che noi abbiamo ipotizzato di 70 metri quadri da destinare a nuova residenzialità la somma come vedete presto fatta porta dallo stato ad una spesa di 270.000 euro con un risparmio di 30.000 euro fa contenti due individui ma io direi tre perché anche il soggetto il comune è contento perché il comune acquisisce patrimonio che può destinare a persone che vengono a vivere in questi posti gratuitamente ci sono tante persone dell'est europeo che vivono di pastorizia che stanno abitando tuttora i luoghi dei terremoti la prima facemmo una cena ad accumuli per beneficenza la prima persona a ritornare ad accumuli fu una famiglia slava che si occupa di pastorizia e tornarono senza niente con una roulotte senza riscaldamento ad aprile e furono i primi a ritornare ad abitare ad accumuli queste persone hanno voglia di abitare questi posti perché vedono nella pastorizia nella nella zootecnia nell'agricoltura una risorsa ma tantissime persone italiane stavano ritornando già prima e stanno continuando a tornare ci sono a Montecallo tre ragazzi dell'Emilia Romagna che sono venuti ad abitare a Montecallo che vi invito a visitare perché è definita la Svizzera del Piceno c'era un movimento un fermento prima del terremoto i dati erano tutti positivi rispetto all'alberghiero al turismo c'era una ripresa anche dal punto di vista economico proprio come produzione primaria però va anche aiutata questa popolazione a tornare vanno create le condizioni che sono quelle della comunità del tessuto sociale e sono le condizioni per poter permettere alle persone di io lascio la città guadagno dieci e questi dieci ci metto la parte economica i servizi tutto quello che è i benefici del vivere in una città perdo qualcosa però decido di stare in un posto che mi dà altro mi dà benessere e lo faccio perché il mondo va in quella direzione torneremo verso credo che da adesso in poi vivremo al fenomeno inverso rispetto a quello che c'è stato nel dopoguerra cioè la gente ritornerà a vivere determinati luoghi alcune persone lo stavano facendo e continueranno a farlo cioè ritornare a popolare questi luoghi perché sono i posti dove forse si ritrova un rapporto diverso con se stessi e una pace con la vita in generale quindi la mia è una preghiera quella che volevo fare oggi è un invito a valutare l'aspetto anche sotto altri punti di vista non è facile per carità abbiamo visto quanti sono gli aspetti però il compito del legislatore è questo quello di fare promuovere leggi per cercare di dare una svolta a questa situazione e la svolta non è solo ricostruire le case così come erano ma è tornare a vivere in questi posti tutto qua grazie